Nella tornata elettorale dello scorso 3-4 ottobre è stato il sindaco più votato fra i comuni della provincia chiamati alle urne a indicare i loro primi cittadini. Nicola Barbieri è stato rieletto sindaco di Mondolfo con un 84% di preferenze che gratificano il lavoro di un'amministrazione giovane come quella di Barbieri che ad appena 32 anni ha cominciato il suo secondo mandato da sindaco del quarto comune più popoloso della provincia di Pesaro Orbino. Un bellissimo risultato elettorale che ci onora ma che ci consegna anche una grande responsabilità che è quella di continuare nel percorso iniziato in questi ultimi cinque anni, nello scorso mandato che è stato un mandato di fatti con tanti progetti conclusi e tanti altri che sono stati avviati. Siamo molto contenti, ringraziamo i tanti cittadini che ci hanno sostenuto. Sin da subito abbiamo iniziato a lavorare perché c'è ancora tanto da fare per migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità di Mondolfo e Marotta. Un mandato che è ricominciato fra priorità impellenti e progetti di ampio respiro da coltivare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intanto ci sono i tanti progetti che abbiamo avviato e che dobbiamo concludere come l'adeguamento sismico della scuola Media Fermi, il restauro del Bastione Sant'Anna nel centro storico di Mondolfo e l'ampliamento del cimitero comunale. Poi ci sono altri progetti che sono stati finanziati, che abbiamo finanziato e che avvieremo con i lavori nei prossimi mesi come ad esempio il percorso ciclopedonale che collega Centocroci a San Gervasio, sull'illuminazione pubblica, gli interventi su Viale Carducci, quindi sulla zona mare e poi anche tanti altri progetti legati alla manutenzione del territorio e alla sicurezza. Sicuramente ci si attende molto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come Comune struttureremo la macchina comunale per proseguire al meglio con le progettazioni perché è importante progettare il futuro della città per partecipare ai sempre più bandi di regionali, ministeriali e anche europei per ottenere appunto i fondi e toglierci delle soddisfazioni. Sicuramente vorremmo mettere mano negli impianti sportivi ma anche nei poli culturali, quindi riqualificando gli spazi esistenti ma perché no anche creandone di nuovi.